Per tanto tempo da bambino non mi sono accorto di nulla, capitava di notte, a me sembrava quasi normale. È stata la cosa più difficile da vincere in terapia. Cosa? L'idea della mia ansuettudine. A me sembrava normale. Il giorno mi mandava a comprare le sigarette, veniva a parlare con le maestre. Non mi toccava mai. Scusami. Io per questo non ce la faccio a toccare i miei figli. Non riesco ad abbracciarmi. Scusami. Non ti devi scusare, non c'è niente di cui ti devi scusare. A un certo punto della notte sentivo i suoi passi. Mi mettevo la testa sotto il cuscino, speravo ci ripensasse. Invece veniva lì e mi diceva, Daniele vieni. Così. Con una voce supplichevole. Aveva il tono di un bambino lamentoso. Non piangere. Io non piango per me. Piango per quel bambino. Mi fa una pena terribile. E mamma? Mamma dove era quando lui ti veniva a chiamare? In cucina, a correggere i compiti. Un giorno è venuto da te per accarezzarti, l'ho fatto anche in un modo paterno. Però io avevo capito che l'avrebbe fatto anche con te. E allora una notte quando è venuto da me, io ho lanciato il posacenere di marmo che avevo nascosto sotto il letto. Mi ha fatto uscire sangue dalla testa e gli ho detto che l'avrei ucciso. e lì mi diceva anche va bene, va bene. Io l'ho odiato con noi prima. Poi è venuta mamma. E ho picchiato anche lei.